Musica Sappiamo ormai da almeno 30 anni che c'è un legame fra depressione e sistema immunitario. Se vogliamo riassumere lo stato dell'arte in questo momento, il modello prevalente è che circa un terzo dei pazienti depressi, quindi non tutti, ma un terzo dei pazienti depressi abbiano un sistema immunitario attivato e che in questi pazienti l'attivazione del sistema immunitario sia parte del processo patogenetico, sia proprio parte della causa per cui questi pazienti sviluppano depressione. Chi sono questi pazienti? Probabilmente alcuni pazienti con un carico genetico, sappiamo che variazioni genetiche, soprattutto in geni del sistema immunitario, possono predisporre una iperreattività della risposta infiammatoria, ma anche pazienti che hanno una depressione che si origina nel neurosviluppo, pazienti che hanno depressione e che hanno una storia di esposizione a trauma infantili e probabilmente persino un'esposizione a stress nell'ambiente intrauterino per via di una depressione materna. Una depressione più consolidata, più biologicamente radicata nella loro struttura. In Inghilterra in particolare negli ultimi anni c'è stato un progressivo sviluppo di un atteggiamento negativo verso gli antidepressivi in maniera totalitaria. Abbiamo deciso di rispondere come comunità clinica e di ricerca psichiatrica inglese a alcuni articoli che nel Daily Mail erano stati pubblicati negli ultimi mesi di critica eccessiva all'uso degli antidepressivi. Una critica che fondamentalmente ignora gli aspetti positivi terapeutici e privilegia o enfatizza unicamente gli effetti collaterali e i potenziali rischi in una minoranza di pazienti. E quindi abbiamo sentito come psichiatra accademico e come comunità di psichiatri accademici e clinici di scrivere un articolo sul Daily Mail e quindi un articolo che potesse arrivare veramente al cuore del pubblico in cui diciamo le cose che dobbiamo dire sugli antidepressivi. Non sono una panacea, non vanno dati a tutti quanti come se fossero aspirina, vanno riservati ai pazienti che hanno una depressione clinicamente significativa, quindi una depressione in cui c'è una compromissione della funzionalità sociale e un rischio per la vita, magari un rischio suicidario, vanno dati quando è possibile in combinazione con terapie psicologiche e in questo gruppo di pazienti gli antidepressivi funzionano. Ci sono effetti collaterali, una minoranza di pazienti ha effetti collaterali gravi, ma è una minoranza e non possiamo scordarci dei pazienti che invece ne beneficiano. L'immunopsichiatria sarà effettivamente la maniera di portare la precision medicine dentro la psichiatria e la salute mentale, perché abbiamo per la prima volta la possibilità di misurare dei test nel sangue, dei livelli di biomarcatori di tipo infiammatorio che possiamo correlare alla risposta predittiva all'antidepressivo oppure macciare alla migliore combinazione di antidepressivi o antidepressivi e antinfiammatori che beneficiano quel paziente in particolare. Vedo un futuro dove non c'è più il trial and error, non c'è più l'uso casuale e ingiustificato di un antidepressivo dopo l'altro, ma un protocollo chiaro guidato da test ematici, almeno se non in tutti i pazienti, almeno in un largo gruppo di pazienti. Grazie a tutti.